Uè non fare il barbone! Da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice CREATOR! Clicca in basso a destra sul tasto supporta un creatore ed inserisci XIODERONE! DAIE! Can you hear them screaming? Weee bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono XIODER e ragazzi tantissime novità nella giornata di oggi Tra pochissime ore arriverà la patch 9.21 di Fortnite Una patch veramente molto molto particolare Nel video di oggi infatti ragazzi approfondiremo proprio questo argomento Quindi patch 9.21 in arrivo E ragazzi grandi novità anche per la possibilità di ottenere nuovi stili per alcune skin Io vi ho detto in queste tre righe stile per la banana Ma sembrerebbe non essere l'unica skin alla quale verrà aggiunto Uno stile che molto probabilmente ci verrà regalato se le avessimo come skin di base E in ultimo guai legali di nuovo Per Epic Games ragazzi sembrano emerse delle cose poco piacevoli Purtroppo sempre ai danni di giocatori che hanno partecipato ad eventi ufficiali di Epic Games Vi farò sapere un pochettino di che cosa stiamo parlando Sempre per tenervi aggiornati anche sul dietro le quinte del nostro battle royale preferito Ma prima voglio ringraziare tutti coloro che utilizzano il mio codice creator XIUDERONE Grazie di cuore ragazzi per sostenere il canale Mi raccomando iscrivetevi in tantissimi E soprattutto Attivate la campanella per non perdere nessun aggiornamento sui miei video e sulle mie live Ma prima è la domandina raga Non posso non farvi queste domandine estive, invernali, primaverili Che ci tengo un botto a leggere qua sotto i vostri commenti Ragazzi domandina easy Ma tu che location elimineresti dalla mappa? Dai se potessi scegliere C'è una location che ti ha stufato o che pensi non abbia più senso che esista Nella season 9 barra 10 oramai fra poco di Fortnite Ragazzi se io dovessi scegliere eliminerei la pista da kart Per un motivo molto semplice Bellissimo il concept di fare una pista vera Poi sappiamo tutti che è stata evoluta dalla vecchia pista sterrata Ma un inutile spreco di spazio Nel senso sì quanta gente ci va alla pista? Pochissimi Piazzi enormi non sfruttati Ci farei una mini city Ecco un qualcosa magari un vecchio tema far west Non sarebbe ad esempio affatto sgradito Ma quindi Ciancio alle bande E bando alle ciance Andiamo subito subito ragazzi a vederla Eccola qua Il pop up informativo nella dashboard del nostro Fortnite ci annuncia che oggi Alle 9 quindi fra pochissimo Saremo comunque in live Tra poco quindi vivremo insieme tutte le fasi Arriva questo aggiornamento della patch 9.21 Qual è la cosa strana? Che ragazzi non si è quasi mai visto un downtime dei server Per un aggiornamento di una patch già esistente Di solito i server vanno giù ogni due settimane Già settimana scorsa con la patch 9.20 abbiamo avuto un'oretta abbondante anche di più Di downtime ovviamente con l'inserimento del castello che se ne è andato Delle skin nuove e di tutto Io credo che Arriveranno delle grandi novità anche oggi ragazzi Anche fra poco Arriverà ad esempio il nuovo Lancia granate di prossimità Quindi sappiamo che spara due colpi alla volta E da quanto ci diceva La descrizione funziona molto bene A corte distanze Quindi probabilmente le granate o esplodono prima o avranno una particolarità Secondo me che ad esempio non le farà rimbalzare Cosa che ad esempio succede con il lancia granate normale Ma potrebbe anche arrivare il propomatic ragazzi Ve ne avevo già parlato un paio di video fa Non abbiamo ancora capito se arriverà in battle royale O arriverà in save the world Io sono più propenso a pensare che arrivi in battle royale Ma sai fino alla fine non lo sai mai Arma molto particolare che come vi ricordo Viene associata ad una LTM Ancora si sa poco di questo propomatic Quindi non lo so Non lo so Molto più facile che arrivi invece il lancia granate E ovviamente ragazzi potrebbero anche apparire nello shop Le skin che sono state spoilerazzate Oramai settimana scorsa E che prevedono appunto stili per punto di rottura E altre skin molto molto particolari Oltre a quelle che abbiamo già visto dei predoni Che continuano a ritardare con la data di uscita Insomma tanto hype anche per la patch 9.21 Ma andiamo avanti ragazzi Ed eccolo qua questo bel faccione pacioccone È il signor Donald Mustard Sapete tutti chi è ragazzi È il direttore creativo generale di Epic Games Quindi il super mega capoccione pieno di soldi in poche parole Perché vi faccio vedere la sua faccia Perché ragazzi Donald Mustard sulla sua pagina Twitter Mi va a pubblicare questa immagine E non solo questa Immagine davvero meravigliosa A parte tutto Mi piace tantissimo lo stile del disegno Molto anni 90 Tanta tanta roba Ma come vedete è uno stile Potrebbe essere uno stile estivo Per la banana C'è la bananazza Con camicia a fiori 4-5 ghirlande Occhiali da sole E che si sta Scialando di prepotenza Su una moto d'acqua Il che ragazzi Potrebbe lasciare ad intendere Che perché no Qualcosa a tema estivo Potrebbe arrivare Anche perché arriva Anche un altro tweet Sempre nello stesso post Di Donald Mustard Dove invece si vede per metà Una possibile nuova skin Che come vedete Sta sorseggiando Il Peely Juice Quindi il succo di banana Che abbiamo visto Nel trailer Della season Numero 9 E che ancora in realtà Non è stato introdotto Molti pensano Che andrà a sostituire La Slurp Non si sa Ma l'ultima immagine La più interessante Ragazzi È sempre In primo piano La nostra banana Contenta come la Pasqua Che sperpera soldi A manetta Probabilmente su uno yacht E dietro Lo vedete Il pesce secco Ragazzi Questo ci fa pensare Che potrebbe arrivare Un nuovo stile Per pesce secco Nella stessa season E avrebbe assolutamente senso O forse Nella season 10 Perché comunque Saremo in piena estate Anche nella season 10 Dato che Inizia il primo agosto Ma passiamo subito Velocemente ragazzi Al Winter Royale E voi mi dite Xudor Ma te sei fuori Come un poggiolo Perché il Winter Royale Perché ragazzi Ve lo ricordate Ovviamente Stiamo parlando Di una delle competizioni Più interessanti Svoltesi Parliamo della season 7 Di Fortnite Quindi eravamo sotto Natale Molto interessante Perché cominciava A dare un po' di grano Interessante Ai giocatori Che si qualificavano Avevano fatto Prima del Winter Royale Dei test server Quindi provare Proprio Vi ricordate Non ve lo ricordate Magari Vi avevo fatto un video In season 7 Dove Epic Games Aveva proprio Pagato il viaggio A un tot Di persone Per portarle Nella sua sede E fare dei test server Multipli In tempo reale Quindi con una mega sala LAN Con dentro 50-100 persone Che giocavano In un server Appunto Per testare Le effettive Funzionalità Di quelle che poi Sarebbero stati I format Dei tornei Vedi ad esempio L'arena La World Cup Che c'è adesso Qual è il problema Il problema È che c'ho Il Fnatic Motor Che mi fa un tweet Abbastanza incazzato E dice Ho bisogno Cioè Vorrei Che Epic Games Desse una risposta Ai giocatori Che non hanno ricevuto Il grano Ragazzi Effettivamente C'è un grande problema Epic Games Non ha pagato I giocatori Che hanno partecipato E che hanno vinto Gli eventi ufficiali Ma anche I test server Ovviamente La partecipazione Era stipendiata Oltretutto Il viaggio Gli hanno pagato Vitto e alloggio Non hanno dato I soldi E Fnatic Motor E' semplicemente Il portavoce Di altri Youtuber Twitcher In realtà Se volessimo essere Più precisi Che si sono Aggregati Al suo tweet Abbiamo Zecro Abbiamo Fnatic Provvd Abbiamo E11blocks Abbiamo Paet1k Paet La compagnia Telefonica È una compagnia Estone Se non ricordo male Quindi dell'Estonia E si vede benissimo Come sono in realtà Ben chiari I numeri Dei giocatori Che devono essere pagati In In concomitanza Con gli eventi E le date con cui Sono stati fatti Quindi Ovviamente Epic Games Spero prenda provvedimenti Perché quando si accende Un focolare Ovviamente Poi comincia Il ping pong Su tutti i social E sono sicuro Dai che Si sistemerà Al meglio Beh ragazzi Che dirvi Noi fra poco Andiamo in live E ovviamente Ci godremo Insieme La nuova patch 9.21 Magari anche Con le nuove modalità A presto Ciao Grazie a tutti